...e la Chelsea, Melina, Mayla, Beatrice e Caterina, Demma per tornare nuovamente ai Caraibi con il loro show del titolo Oro Solido. ...e la Chelsea, Melina, Mayla, Beatrice e Caterina. ...e la Chelsea, Melina, Mayla, Beatrice e Caterina. ...e la Chelsea, Melina, Mayla, Beatrice e Caterina. ...e la Chelsea, Melina, Beatrice e Caterina. ...e la Chelsea. ...e la Chelsea. Alla prossima! 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 Alla prossima!